Ciao a tutti, io sono Max e benvenuti in questo nuovo video. Adesso vi chiederete il perché di queste bottiglie, cosa poi cosa vuole dire queste scritte, queste cose che hanno. Ve lo dico subito. Queste bottiglie hanno il nome di ogni punto cardinale, nord, sud, est e ovest. Al loro interno, non so se si vede, c'è un biglietto che è il gemello del biglietto che avevo messo nella mongolfiera, solo che c'è scritto da che punto è stato lanciato, quindi punto nord, punto sud, punto est, punto ovest. Queste bottiglie verranno legate a dei palloncini, qua, come questi, che verranno gonfiati con l'elio e verranno mandati via. Sto partendo da dove? Da casa mia. Quindi io raggiungerò il nord, il sud, l'est e l'ovest del mio paese, Moimacco. Degli quadrati più estremi del paese lanceranno queste e poi vedremo dove arriverà. Adesso devo gonfiare i palloncini con l'elio, legarli con una cordina e poi mi porterò man mano a fare il lancio. Piccolo tocco di vanità, adesso col pennarello ci scrivo il nome del mio canale, molto leggero, giusto per pubblicità occulta, neanche tanto occulta. Ed ecco qua, logo semplice, giusto per farsi un po' di autopubblicità e un po' di vanità, eh. Allora, con uno spago lo dobbiamo legare a... E adesso la prima bottiglia, quella che andrà a nord, lo leghiamo e vediamo se basta un palloncino, perché mi era avuto il dubbio sul peso. Beh, legato è legato e adesso facciamo la prova. Ehm, no, ne... Ci vuole un secondo palloncino. Ne fa problemi, abbiamo un secondo palloncino. Anche questo, il nostro bel logo. Ormai, ho preso gusto, un po' di pubblicità non fa male. Sano tocco di egocentrismo. Tadà, sono ancora qua. Cavolo! Sei pesante però, eh. Tre palloncini? Voi non potete capire che disastro che è questo. Ma perché mi impergono in queste cose? Non importa. Oh, tre palloncini, perfetto. E adesso? Sud. Cominciamo con gli altri. Bene, ed eccoci qua, pronti a partire. Andiamo a cercare il primo punto. Il punto segnato come punto nord. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua. eccoci arrivati al punto più a nord del paese di moimacco adesso questa bottiglia che indica al nord la faccio volare mi sporgo un attimo così vediamo se riesco a farvi vedere il panorama che c'ho dietro di me pronti alvaro 3 2 1 via bene primo lancio perfettamente riuscito il palloncino non so se riuscite a vederlo ma sta andando verso le colline verso il matajur verso quelle zone lì chissà dove a terra e se a terra se qualcuno lo trova dietro il matajur c'è la slovenia pensate che figata se arriva fino in slovenia bene adesso mi dirigo al punto sud per onti per il secondo lancio punto sud secondo punto cardinale toccato quindi come prima anche qui 3 2 1 a vedere come sta andando mi sa che sta tornando a casa che me la trovo sul tetto io di casa vabbè vedremo ed eccoci arrivati al punto est adesso facciamo il lancio 3 2 1 via e questa me la devo fare a piedi perché la strada non è consentito il passaggio di autoveicoli sto raggiungendo a piedi l'ultimo punto il punto ovest del paese di moimacco da qui lancerò l'ultimo messaggio nella bottiglia bene siamo arrivati all'ultimo passo veramente questo è il fatidico punto ovest come potete vedere dietro di me sta già tramontando il sole e qui sarà un bello spettacolo lanciare questo messaggio in bottiglia dall'ultimo punto con il sole che sta iniziando a tramontare quindi 3 2 1 via ma ecco mi ha fatto un brutto scherzo spingendo dalla parte opposta mi sarebbe piaciuto che mi ha avuto che andasse incontro a tramonto come un cowboy solitario ma non si può avere tutto quindi direi che il video è finito se vi è piaciuto vi mettete un like se vi va iscrivetevi al mio canale e adesso con le spalle il tramonto di moimacco vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti dal vostro max max max